Due anni fa in questa sede è stata annunciata questa new wave di crediti deteriorati sulla scia del Covid. Lo scorso anno si è riflettuto sulle misure di sostegno del Governo. Quest'anno ci troviamo a parlare di nuovo in uno stato di incertezza dove si attende un aumento di crediti deteriorati, ma si guarda al futuro. Qual è lo scenario? Lo scenario è di due effetti. Il primo è che il Covid è stato molto meno impattante di quello che pensavamo e quindi qui abbiamo sostanzialmente buone notizie e questo credo sia la conseguenza degli interventi pubblici, della politica monetaria e di tutto quello che hanno fatto anche le banche in termini di messa a disposizione di liquidità. E quindi il 22, la produzione di nuovi non performing loans, è stata più bassa di quello che pensavamo un anno fa. Il secondo elemento però che dobbiamo considerare, lei l'ha già detto nella sua domanda, è che abbiamo uno scenario macro in questo momento che pone delle sfide. L'inflazione, tassi, di conseguenza crescita del PIL molto più modesta quest'anno e l'anno prossimo trascurabile. Quindi abbiamo nel 22 una situazione migliore, nel 23 e nel 24 una situazione peggiore rispetto a quella del new wave, come avevamo immaginato. Il tutto che insiste su un tessuto tuttavia abbastanza robusto. Le banche sono ben capitalizzate, le banche hanno NPI ratios molto bassi, esiste un'industria oggi capace di assorbire la produzione di questi nuovi NPL, li vuole comprare. E quindi insomma abbiamo una situazione complessiva del sistema Italia che credo possa assorbire senza problemi esistenziali questo deterioramento. NPI ratio su livelli bassi, aumento del prezzo degli UTP, quali le dinamiche alla base? Dunque gli NPI ratio sono bassi e le banche hanno pubblicamente dichiarato di volerli tenere bassi e di volerli anche ulteriormente abbassare, per cui ci sono state delle banche anche molto grandi e prestigiose che hanno addirittura dato un obiettivo di volere quasi azzerare questo fenomeno nel proprio bilancio. Quindi banche che paiono molto determinate a tenere basso il valore, che vuol dire gestire proattivamente in casa per evitare che si creino, naturalmente questo è il loro primo obiettivo, ma anche quando si creano una capacità di venderli. Questo è, credo, confermato. Loro pur con l'aggravarsi della situazione diciamo macro, e già in piena crisi Russia-Ucraina hanno riconfermato questa linea d'azione, per cui noi ci aspettiamo che da lì venga fuori un mercato per gli NPI che rimane molto vivace. Che anno stato per Banca IFIS su fronte alle operazioni? Un anno in cui abbiamo già comprato 1,4 miliardi, per cui è stato un anno dinamico, un anno in cui Banca IFIS ha svolto il suo primo anno di piano, che è ancora in corso, ma stiamo andando verso l'ultimo trimestre, per cui ormai abbiamo un po' un'idea di come sta andando. Abbiamo, pur in questo contesto un po' più complicato, potuto confermare i nostri obiettivi di utile, pensiamo di fare almeno 120 milioni di euro quest'anno, e quindi per noi è un anno impegnativo, un anno che però ha anche visto delle grandi soddisfazioni, abbiamo avuto l'investment grade da parte di Moody's, abbiamo avuto un incremento del nostro chat one ratio, della nostra capitalizzazione che ci è stato riconosciuto per circa 400 punti base, abbiamo avuto dei risultati, noi ci piace definirci resilienti, è una banca che è diversificata, a varie attività, non solo quella degli NPL di cui parliamo oggi, ma anche attività di banca commerciale, attività di leasing, il grande factoring naturalmente, che è un business molto molto reddittizio, è positivamente correlato all'inflazione, quindi diciamo la nostra, si conferma il valore di un modello di business basato sui piccoli ticket e sulla diversificazione, perché noi stiamo attraversando questo mercato con relativa serenità, che non vuol dire che siamo immuni, ma vuol dire che possiamo comunque confermare quello che abbiamo promesso.